Spiego tecnicamente il brano perché è una lingua originale. Io spesso quando ero nei paraggi tra Roma o un'altra parte, prendevo un aereo e veniva il mio caro amato paese e poi magari da Catania prendevo un amico, affettavo una macchina e mi facevo accompagnare a Lentine. Ci dicevo aspettami qua, tra due e tre ore mi faccio un giro e poi mi accompagno di Nuova Catania. I paesi me lo giravo sotto e sopra, toccando le poppastrelle, cioè i panzaretti, i muri a quanto amo e a quanto mi è trasmesso questo modo di scrivere. E poi me ne andavo. Tempo fa feci un sogno, nel sogno che parla che io andavo verso il cimitero salendo, andandoci da Santa Maravecchia, salendo Passiv, non so, lì c'era un ospedale, c'era un tipo una casa di cura, ma allora non c'era nulla. Sognai che c'era un gruppo di palestinosi e lì c'era un corpo sdisossato. Gli occhi insanguinati a terra, che scrivevano, sangue, hanno ucciso un poeta e Gesù Cristo scappa dalla croce. Da qui scrivo questo canto, questo diciamo notturno, quest'anima notturna direi, che è poi quello che mi ha portato al successo mondiale grazie a Giorgio Iango, ballerino di Callafracci, questi versi che io canto. grazie a Giorgio Iango. grazie a Giorgio Iango. grazie a Giorgio Iango. grazie a Giorgio Iango. con entini non come un adeo lamentano sempre un vulcano non come un adeo lamentano sempre un vulcano non sai se direi cristo qua scappati la cruce o fosse un poeta qua chiamci la sua saggizia arma qua cammini portami lontano portami lontano lasci mi chunni a arma qua cammini portami lontano portami lontano portami lontano Lassimi jurnia Lassimi jurnia Molina Lassimi jurnia Lassimi jurnia Lassimi jurnia Grazie.